Da quel progetto elaborare già la destinazione d'uso finale e immaginare l'uso anche del piano di sotto, di quello che è il Chiostro, che attualmente dopo anni si sta aprendo alle attività. C'è un bellissimo programma che è fuori a Chiostro, che ci accompagnerà fino a ottobre, ha fatto da Collettivo Barberia, da Nira Punzo in prima persona, e che sta avendo successo ma cerca di parlare d'aspetto culturale, spettacoli teatali, presentazioni di libri con Barbara Pierini, insomma sta avendo quel filone. Attualmente questo deve diventare realmente il palazzo delle arti foriane. La nostra storia deve avere nel Chiostro finalmente un luogo che sia un museo civico, ma che sia un museo che rappresenti tutta la storia foriana, di tutte le arti, ma che si avrà anche a quelli che hanno, all'arte che ha toccato in tutte le forme l'isola di Ischi. Noi siamo stati a terra di Odere, che faremo una celebrazione a fine mese, il 28, per ricordare quelli che sono i 60 anni dalla scomparsa, ma parliamo anche di Pasolini, parliamo di Moravia, parliamo di quelle che è la nostra storia artistica, Peperone, Bolio, Agile Patalano, insomma c'è una storia enorme da scoprire. Con l'accamino stiamo lavorando a una serie di mostre che già a Villa Albuso sono iniziate per continuare insieme questo cammino, ma io credo che soffermarsi su quel luogo lì vuol dire dare davvero un'anima. Il Polo di Forio è il posto con più siti culturali e noi stiamo cercando, io la mia missione che voglio dire, ma è il progetto ai quali io credo si possa davvero riuscirci, salvo gli imprevisti, nel senso le esigenze che vengono, se amico di me che etano ad esempio per la questione scolastica, per le aule, sicuramente anche questi siti dovranno dare un contributo se nasceranno questa emergenza.